Super protagonista nella Miraglia con l'Otto ragazzi è andata a porre la parola Firenze sotto questa fantastica vittoria Canottieri Firenze molto agguerrita con una tifoseria anche da stadio Ragazzi da quanto tempo stavate preparando l'Otto? Ma stavamo preparando l'Otto da due settimane L'Otto è andato veramente molto bene, potrebbe essere una barca per tutta la stagione? Speriamo che sia così Raccontateci un po' la gara, è stata combattuta, abbiamo visto tutti gli equipaggi molto vicini, com'è stata la gara? Sì, in partenza eravamo un pochino dietro la limite, poi siamo riusciti nel passo a recuperarla piano piano fino a sfilargli all'arrivo Lotta Toscana, limite Canottieri Firenze, avete vinto voi, e la prossima volta? Speriamo di rivincere Allora ragazzi in bocca al lupo, speriamo di ritrovarvi ancora sul gradino più alto del podio, appuntamento, secondo meeting nazionale? Speriamo di sì, speriamo di sì Allora ragazzi a presto, in bocca al lupo Crepi